Quali sono le novità di queste due misure che vengono presentate oggi qua ad Arcevia e quindi Biodiversità Agraria e Accordo Agroambientale d'Area per la Prevenzione del Rischio Idrogeologico? Sì, noi abbiamo organizzato una serie di incontri sul territorio, sono sette, e abbiamo scelto per ognuno di questi incontri, diciamo, degli argomenti che riguardano il PSR in sostanza. Siamo in una fase transitoria, stiamo passando dal PSR 14-22 al nuovo PSR 23-27 e quindi con l'occasione andiamo a parlare di bandi aperti o che si stanno per aprire, nello stesso tempo chiediamo anche ai presenti suggerimenti, consigli, opinioni riguardo alla nuova programmazione. Entrando nel merito dei due argomenti, abbiamo scelto, così come negli altri casi, argomenti che attengono un po' al territorio che andiamo a incontrare, insomma. In questo caso, per esempio, in queste aree di media alta collina, uno dei problemi è quello del dissesto idrogeologico. Quindi andremo a presentare questo bando che è aperto attualmente e quindi vedremo un po' a che punto siamo. È un progetto pilota dove cerchiamo di far dialogare agricoltori e amministratori locali per fare interventi integrati a tutela proprio del territorio, evitando l'erosione superficiale, smottamenti, specie adesso con i cambiamenti climatici, sono abbastanza frequenti questi grossi temporali molto forti e che creano molti danni anche. L'altra questione invece è la biodiversità. Anche in questo caso parliamo di un argomento che interessa anche questo territorio o questa tipologia di territori. Quindi queste specie animali, razze animali o specie vegetali che sono ormai abbandonate da tempo, con la regione le stiamo riprendendo, anche con la finalità non solo di tutanare la biodiversità, ma anche di valorizzarle queste queste specialità insomma del territorio. Qua per esempio ad Arceve abbiamo il famoso mai sottofile di Rocca Contrada che ormai ha avuto una grandissima diffusione, limitata ovviamente a quello che può essere questa cultura. Però tutto nasce da un agricoltore che conserva queste varietà, l'Assam poi le fa mantenere gli agricoltori e poi via via si cerca anche di valorizzarle. Grazie a tutti.